La Toscana chiama e Tunisi risponde. Il Museo del Bardo di Tunisi ospita una mostra sulle antichità romane, epigrafi, stelle votive e funerarie provenienti dalla Tunisia e conservate da oltre tre secoli agli uffizi e nei depositi dell'archeologico a Firenze. La mostra arriva tre anni dopo l'attentato terroristico al Museo del Bardo, avvenuto nel marzo 2018 e in cui persero la vita 22 persone. Questo è una testimonianza di un grande rapporto secolare fra la Toscana, Firenze e la Tunisia, un rapporto che noi vogliamo mantenere sempre vivo proprio nel senso del dialogo interculturale fra le sponde del Mediterraneo. La mostra è finanziata dalla Regione Toscana con la collaborazione dell'Istituto Locale di Cultura e la curatella degli uffizi. Mandiamo degli epigrafi che furono portati proprio nel 1677 da uno studioso, uno medico, professore all'Università di Pisa e furono portati a Firenze dove infatti gli ultimi medici erano estremamente interessati proprio nell'epigrafica romana. L'inaugurazione della mostra al Museo del Bardo di Tunisi è prevista domenica 18 marzo con l'esibizione della Scuola di Musica di Fiesole. La mostra resterà visitabile fino alla fine di settembre.